Rift, disegnato per Tubes da Roberto Ludovica Palomba con Matteo Fiorini, radiatore componibile che vuole imitare non tanto una modulazione di tipo industriale ma artigianale, composto da due moduli, un modulo da 24 cm e un modulo da 15 cm. Questi moduli si possono combinare tra loro in tantissimi modi diversi. Rift significa spaccatura, il concetto fondamentale di questo prodotto è quello di giocare su diverse altezze. È un prodotto innovativo anche da un punto di vista tecnico e funzionale, parliamo di concentrare i collettori che si trovano nella parte superiore ed inferiore in un unico collettore, creando dei sistemi di circolazione per ogni radiatore indipendenti. Posizionabili in verticali, in orizzontali, allineati e disallineati, mi dà la possibilità di giocare sui colori. Origami è un radiatore elettrico che sarà pronto entro fine anno. È frutto della collaborazione con un nuovo designer che è Alberto Meda. È un qualcosa che è stato disegnato per decorare, dividere un ambiente ma anche preservare la privacy della persona. Disponibile in tantissime colorazioni, diverse altezze, molto interessante la versione freestanding e anche una versione a Moro. Tubes è un'azienda gestione familiare. Quest'anno festeggeremo il venticinquesimo anno di attività e la volontà dei soci fondatori è stata quella di rendere un oggetto che era estremamente tecnico, cioè l'oggetto radiatore, un termo arredo, cioè dargli comunque una valenza estetica in modo che diventasse un qualcosa di interessante per rendere il contesto abitativo più piacevole e quindi è un'azienda che è riuscita a creare il binomio armonico tra estetica e funzionalità. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.